L'avvocato di Sant'Agata di Militello, Paolo Starvaggi, in passato segretario provinciale del Partito Democratico e da sempre impegnato in politica, è pronto a scendere in campo per le prossime elezioni amministrative. Un progetto che sarà presentato nelle prossime settimane per la ripartenza di Sant'Agata di Militello. Questa candidatura a sindaco di Sant'Agata di Militello arriva addirittura un anno e mezzo prima delle elezioni. Come mai? No, diciamo che oggi era previsto al Teatro Sacro Cuore di Sant'Agata un incontro pubblico per presentare un progetto per la città ed era previsto dare indicazioni, incominciare anche a fare partire dal basso un progetto aperto che possa essere alternativo all'attuale amministrazione e anche con la necessaria gradualità ma con la dovuta cura e attenzione costruire una nuova soluzione per il nostro Paese. Non è stato possibile fare manifestazione perché con i numeri di questi giorni abbiamo comunque rinviato questo momento di contatto con la comunità, con la città e però quello su cui stiamo lavorando e quello che c'è in campo non abbiamo nessuna difficoltà a esternarlo, evidenziarlo e portarlo a conoscenza. e diciamo si tratta di un progetto politico per le prossime amministrative che parte in qualche modo dalla minoranza consigliare e diversi consiglieri dell'attuale minoranza stanno ragionando su un progetto da offrire alla città. Ci sono forze politiche, diciamo rappresentanti della società civile, delle professioni che già sono in movimento e hanno deciso con determinazione, con passione, con coraggio e con amore per Sant'Agata di avviare questa fase di costruzione del progetto. Io ho dato la disponibilità e mi è stato richiesto di guidare questo progetto e non ho ritenuto di tirarmi indietro perché ritengo che ci sia bisogno di qualcosa di importante e io certamente sono disponibile a fare la mia parte. Vuole essere un progetto proiettato sul futuro che tiene conto anche del passato ma che è assolutamente aperto, che vorrebbe andare oltre gli attuali schieramenti, anche oltre quelli che sono diciamo gli schieramenti politici storici del centro-destra e del centro-sinistra perché oggi noi viviamo il dramma del covid e della crisi economico, finanziaria e sanitaria collegati con questa tragedia che stiamo subendo, ma abbiamo anche una grande occasione, una grande possibilità che è quella dei fondi del PNRR e Sant'Agata è in difficoltà. Penso che sia abbastanza nella convinzione generale che questa amministrazione non sta operando in modo adeguato e allora si è pronti a mettere in campo questo progetto. Io ho maturato esperienza e competenza nella mia città, nell'amministrazione ma anche e soprattutto nella professione e sono stato sollecitato a guidare questo progetto. Non ho nessuna difficoltà a farlo in qualche modo coesistere e rendere compatibile con i miei impegni professionali e sono convinto che si può fare. Sant'Agata è praticamente sul filo del baratro, il piano di riequilibrio probabilmente destinato al dissesto finanziario, è uno dei propri comuni che non ha stabilizzato i precari, quindi oggi noi viviamo in tutti i comuni delle difficoltà legate al personale, alla gente che si è andata in pensione. A Sant'Agata anche questo dramma enorme di un'amministrazione che non è stata capace di stabilizzare gente che da decenni ha sulle spalle il comune che ancora continua ad essere precario. Ma Sant'Agata oggi vive il dramma dell'isolamento, della mancanza e della perdita assoluta della centralità, vive il problema enorme di un porto finanziato nel 2002 che dopo 20 anni è ancora al palo e che questa amministrazione non sarà mai in grado di completare. C'è il problema altrettanto importante e delicato dell'ospedale che non può, come presidio per la salute pubblica, essere relegato a un pronto soccorso con 100.000 utenti. Questa amministrazione è stata assolutamente incapace di affrontare questi problemi come anche i problemi della quotidianità. Opera in una sorta di delirio Donnipotenza va frenata, broccata e in fondo avere deciso di partire in anticipo rispetto alla scadenza naturale, ma con la consapevolezza che sarebbe opportuno che questa amministrazione anche si rendesse costo dell'inconcludenza e dei danni che sta facendo. I consiglieri di minoranza in più occasioni, anche del recente, hanno chiesto le dimissioni del sindaco. sarebbe fondamentale per la città, per esempio, se ci fosse un progetto anche unitario, anche che possa inglobare parte delle professionalità, delle competenze che guardano con vicinanza e con interesse all'attuale amministrazione, di fare un governo di salute pubblica che però non nel 2003 ma nel 2002 possa mettere mano ai tanti problemi che ci sono e dare un futuro a questa città. Io dico che con la libertà, con l'onestà, con la competenza si possono fare tantissime cose. Il porto, a fronte delle relazioni della commissione di collaudo, dei problemi legati all'assoluta violazione dei termini contrattuali, penso non sarebbe particolarmente problematico andare a fare una rescissione in danno ed esecuzione d'ufficio del lavoro e in sei mesi completare il porto. Questa amministrazione invece chiede finanziamenti per 10 milioni di euro per affidare in via diretta all'attuale impresa in violazione di ogni regola, anche di buonsenso e quindi così come con la vicenda della variante di due anni fa dove si sono impantanate per sei mesi, anche questa volta non potranno che andare a sbattere e la comunità continuerà a non avere un'opera strategica che noi vediamo diciamo la straordinaria bellezza e anche utilità del porto di Capodorlando che da anni ormai è stato avviato. Il porto di Sant'Agata ebbe un'altra cosa, è un porto quattro volte più grande, molto più importante, molto più strategico, finanziato da 20 anni con fondi pubblici e mancuso in 15 anni di amministrazione e ha combinato di tutti i colori sul porto. E come il porto ci sono tante altre cose su cui si potrebbe intervenire. Io penso che questa esperienza che io voglio mettere in campo nell'interesse della città con tanti amici, che parte però da lontano, che parte dall'amministrazione Fresina, che passa dall'amministrazione Sottile. Sia Fresina che Sottile sono dei sindaci che io ho sostenuto, a cui sono stato a fianco, che oggi mi stanno incoraggiando e che sono partecipi di questo progetto per la città e lì c'è stata la sfortuna che la legge elettorale non ha dato a questi due sindaci straordinari la maggioranza. Oggi la legge elettorale consente col primo di maggioranza che un sindaco possa governare con i numeri e quindi partendo anche dall'idea dello spostamento a monte della ferrovia, tanto voluta, programmata, addirittura avviata con un progetto di soppressione dei passaggi a livello da parte di Fresina e poi assolutamente ignorato quel percorso da Mancuso per non parlare del progetto di rifacimento e di protezione della spiaggia e del lungomare, tanto voluto, progettato da Sottile che ha ottenuto poi un finanziamento di 5 milioni di euro che Mancuso ha lasciato nel cassetto, salvo poi assistere nelle settimane scorse alla distruzione del nostro lungomare. Ci sono tantissime cose che si debbono e si possono fare, io devo dire che c'è tantissima gente che si è avvicinata a questo progetto, stiamo avendo adesioni, disponibilità, incitazione e da più fronti, siamo pronti e si parte. Si parte con uno spirito assolutamente costruttivo, con la voglia di pacificare questo paese però veramente, non come Mancuso aveva detto di poterlo pacificare nel 2004 quando è arrivato, salvo poi praticamente distruggerlo, nelle tensioni, nelle contrapposizioni, nel modo di governare con arroganza, con delirio d'onnipotenza, qui oggi si vorrebbe creare un progetto che debba essere un progetto di tanti, senza un uomo solo al comando. Io vorrei interpretare una guida, una guida sicura per la competenza, per l'esperienza, per la memoria storica e però accanto a tante persone che devono essere protagonisti, ai giovani da recuperare in posizioni amministrative, un consigliere comunale dovrà essere un ragazzo o un giovane di Sant'Agata, avremo una consigliere comunale che sarà una giovane di Sant'Agata, dei tanti giovani che si stanno aggregando per sostenere questo progetto e anche giunta ci sarà spazio per i giovani. Ecco, non solo declinare le cose che si possono fare, ma dimostrare che con la serietà e con la competenza si possono mettere in campo e si possono portare avanti. Questa è l'idea del progetto, lo presenteremo alla città insieme a un manifesto, con seassi su cui, tematici, lavorare in un programma che però vorremmo fare insieme alla città, che vorremmo fare insieme a tutti quelli che vogliono dare una mano, partecipare e diventare protagonisti per una Sant'Agata migliore.